Successo per la ventunesima edizione del recital di poesia a Santa Barbara, tenutasi ieri presso la chiesa intitolata alla patrona della città. Ad ideare l'iniziativa il giornalista e scrittore Angelino Cunzolo, per oltre 40 anni corrispondente da paternò della Sicilia, nonché per 30 anni direttore della Gazzetta dell'Etna. A portare avanti l'iniziativa il figlio di Angelino Cunzolo, Rosario. Per questa edizione, targata 2021, la partecipazione anche dell'Istituto Comprensivo Don Milani di Paternò per un'iniziativa coordinata da Maria Gabriella Cirino e sostenuta dal dirigente scolastico Carmelo Sandacati. Il libretto realizzato quest'anno è arricchito di fotografie di Giuseppe Barbagiovanni, oltre a contenere un resoconto sulla storia dei cere iscritta da Francesco Giordano, oltre ad un'intervista della giornalista Sara Cavallaro al maestro di vara Gaetano Amato. La mia testimonianza, in quella intervista che si ritrova nel libretto, la mia devozione parte tramite mio padre, quindi già piccolissimo, adolescente, mi sono iscritto, ho iniziato come portatore del fercolo, l'ho fatto circa 10 anni, e poi al 25 anni, quindi sono già 30 anni, ricopro il ruolo di maestro di vara, che è un ruolo importantissimo, intanto per quello che è la responsabilità durante la processione di tutti i devoti, di tutti i portatori del fercolo, e poi anche per il discorso della gestione delle manovre e la manutenzione del fercolo stesso. E un altro ricordo particolare, oltre a mio padre, che mi ha spinto, oggi mi ritrovo qui anche per lui, un altro momento particolare è il ricordo di Saromolino, che è stato il mio predecessore per parecchi decenni come maestro di vara e che è stato così orgoglioso, quando c'è stata la mia nomina, di venirmi a trovare nel mio posto di lavoro, per venirmi a dare la notizia e fare, diciamo, così ufficiosamente il passaggio del ruolo. Siamo arrivati a questa edizione con la consapevolezza che bisognava continuare. Papà ci ha lasciato nel 2019 e ci ha lasciato questo testimone. Tutta la famiglia Cunzolo ha accolto anche il messaggio che arriva un po' da tutti per cercare di dare seguito al suo progetto. Un progetto che quest'anno si è concretizzato anche, non soltanto con le poesie, ma anche con il coinvolgimento dell'Istituto Convenzio Dominaria di Paternò. Il libretto che è stato pubblicato con tutte le poesie contiene anche alcuni bei interventi, la stessa Sara Cavallato dopo un tributo, con la descrizione di tutto quello che è il momento da parte di Gaetano Amato, che è il nostro Mastro di Vara. Il libretto contiene anche alcune curiosità, filastrocche, la storia anche della veretta raccontata da Francesco Giordano. Insomma, un momento anche per aggregarci e stare uniti insieme in questo momento che sappiamo tutti che è critico, ma dobbiamo avere la speranza che uniti possiamo continuare a gestire anche questa criticità e anche a superarla. Sono stato oggi convocato qui dal dottore Cunzolo per poter mostrare quelle che sono le immagini fotografiche che ho realizzato in questi ultimi vent'anni. In otto minuti abbiamo messo proprio alcune immagini salienti di quelle che sono state utilizzate per le varie pubblicazioni, per le varie brochure che abbiamo realizzato in questi anni. Il testo che il dottore Cunzolo mi ha chiesto di scrivere all'interno non è altro che un mio ricordo di infanzia quando i miei cugini mi venivano a prendere a casa da mia nonna e mi portavano proprio a Sant'Antonio, mi portavano lì per vedere un famoso disparo, quindi questo è uno dei ricordi che ho fissi in mente e che ogni anno cerco di fotografare in maniera diversa. Quest'anno è stata una grande gioia per me coinvolgere gli allunni dell'Istituto Comprensivo Don Milani e a questa iniziativa che è un'iniziativa culturale, un'iniziativa di fede anche. I ragazzi si sono ritrovati a riflettere sulla figura di Santa Barbara e nella fatica di mettere insieme due rime in realtà si sono ritrovati a pregare perché sono entrati nel mistero di questa donna martire. È stata quindi un'esperienza molto bella dal punto di vista culturale, dal punto di vista anche della fede e è stato bello realizzare questo evento grazie soprattutto alla collaborazione attiva che si è realizzata con tutti i colleghi dell'Istituto Don Milani. Sono stati pronti a mettersi al lavoro tutti i colleghi di lettere in particolare ma anche i docenti di strumento che questa sera hanno accompagnato alcuni dei ragazzi dell'indirizzo musicale e anche il Dipartimento di Arte ha realizzato un pannello. Quindi è stata una bella esperienza alla fine di gioia, di condivisione nella realizzazione di una partecipazione corale. Per cui il mio ringraziamento va non soltanto a Rosario Cunzolo ma anche e soprattutto al nostro dirigente, il professore Carmelo Santagati che ha accolto con gioia l'iniziativa della partecipazione che poi è la prima volta che il Resital di Santa Barbara si apre ad una scuola come appunto è avvenuto quest'oggi.